Buonasera a tutti, siamo qui con Tommaso Montanari per seguire una lezione, chiamata formalmente lezione, ma in realtà sarà un viaggio in una parte con una lettura sul mondo dell'arte riguardo al tema dell'essere anonimi o non essere anonimi, del rivelare la propria identità o non rivelarla, che afferisce perfettamente al tema della Biennale di quest'anno, che è visibile e invisibile. Io sono Olga Gambari, volevo fare una piccola introduzione e presentazione di Tommaso Montanari, anche se molti di voi lo conoscono, però con alcuni piccoli dati biografici che collocano il suo lavoro e soprattutto il tipo di racconto che vi farà e anche illumina tutti i temi e gli argomenti che sono presenti dentro questa lezione ma che fanno parte di tutta la sua ricerca e che potrebbero essere anche delle piccole tracce da cui partire per un dialogo successivo alla lezione di Montanari. Tommaso Montanari è uno storico, un critico d'arte, editorialista e blogger che collabora con il Venerdì di Repubblica e con il Fatto Quotidiano, sempre facendogli approfondimenti e dei focus su alcuni argomenti sulla storia, diciamo, dal barocco, anche prima, con un larghissimo raggio e prendendo spunto da delle opere d'arte per farne prima di tutto un'analisi, mai didascalica, ma sempre per dare una visione di quello che l'arte è e quindi non fine a se stessa, ma lettura trasversale di molti altri temi e argomenti che fanno parte della vita quotidiana. Quindi qualcosa che serve sempre per dare una lettura che riporta nel contemporaneo, nella vita, nella società, l'arte contemporanea che in qualche modo è un po' il taglio di un lavoro e di un percorso di Montanari molto colto, che è diverso da erudito, ma che legge sempre il ruolo dello storico e del critico con una doppia responsabilità, prima di tutto di grandissima necessità di cultura e di approfondimento per non avere una leggerezza e per riuscire a creare un tessuto di lettura di quella che è la storia dell'arte e successivamente il porsi come intellettuale, quindi non solo come storico e come critico, ma come figura di connessione tra quest'arte, questa idea di cultura che afferisce all'arte, ma non solo, e le persone, la società e il mondo, e quindi creare un collegamento, una lettura, un dialogo, un contatto, togliendola da quella che è una dimensione astratta e destratta dalla vita, che nel contemporaneo ha dato vita a un sistema arte contemporaneo legato assolutamente all'economia e quindi ha una svalutazione, uno svuotamento di quelli che sono i primi valori dell'arte. Quindi, in questo, sì, questo è il punto di contatto con un altro tipo di percorso apparentemente parallelo, ma assolutamente combaciante, che è un percorso invece di impegno politico dichiarato. Tommaso Montanari è presidente dell'Associazione Libertà e Giustizia, che magari ci sintetizzi tu in due parole senza, non vorrei fare una descrizione troppo tecnica, così come due anni fa è stato uno dei promotori, dei sostenitori e delle voci che ha promosso e chiedeva una nuova sinistra, però con un aspetto di lista civica e quindi di coinvolgimento, di nuovo, della cittadinanza e del cittadino con un ruolo attivo e non semplicemente passivo di spettatore in qualche modo imbonito, insomma. In questo la cultura e l'arte sono lo strumento. Intanto, buonasera e grazie, grazie per questa presentazione, per questa occasione di incontro. Ma sì, io credo che ci sia molto bisogno in questo Paese di un'altra politica. Avremmo bisogno, naturalmente, anche che la politica, quella con la P maiuscola, la politica delle istituzioni, reimboccasse la strada giusta, che io credo sia quella della Costituzione, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, quello che Calamandrei chiamava il progetto politico della Costituzione. Ma accanto a questa politica dei professionisti, io credo che ci sia bisogno di un'altra politica, quella che Bobbio chiamava una politica diversa, fatta soprattutto di cultura, fatta soprattutto di pensiero critico, fatta di persone che credono che la politica non serva a cambiare la loro vita, ma la vita di tutti. E credo che questo sia un po' ciò che manca in questo Paese, una cerchia più larga di persone che partecipano in forme che oggi non sono più quelle della militanza classica, dei partiti classici, e che credo invece in molte associazioni, Libertà e Giustizia è una piccolissima associazione, ma ce ne sono tante altre, possano provare a costruire degli strumenti di consapevolezza, di presenza, che dimostrino che appunto la politica non è una sporca cosa, sono ancora parole di Calamandrei, e che ci sono tanti modi per farla. Politica in fondo è l'arte di costruire la polis, la città, la cittadinanza, e appunto lo storico dell'arte si trova a chiedersi la città delle pietre e la città degli uomini, la città del popolo, possono continuare a essere divise, o forse si trovano il loro senso profondo l'una guardando l'altra, dialogando con l'altra. Ecco, anche in questa affermazione rispetto alla condizione della politica, che negli ultimi anni è vista veramente come qualcosa di sporco, e che comunque esserne in contatto non può esimere dall'essere contagiati da questo virus. E invece il lavoro sulla cultura, e quindi sul patrimonio culturale, che vuol dire patrimonio storico, patrimonio anche linguistico, nel lavoro di Tommaso Montanari diventa una restituzione del vero significato linguistico, contenutistico e filosofico di alcuni ambiti fondamentali che fanno parte proprio del patrimonio culturale italiano e dell'identità, senza chiudere rispetto a un concetto di nazionalismo e quindi di appropriazione. Quindi questo ruolo comunque politico dell'intellettuale sveglio, attento, che sviluppa una conoscenza critica, puntuale, e può produrre un pensiero stimolante che fa parte della comunità e della polis, come dicevi. Sì, credo che, mi piace citare Bobbio qua, a Torino, non, credo che, se uno si chiede quale sia in sintesi il compito degli intellettuali, usiamo ancora questa parola, che credo abbia ancora un senso, nonostante i tanti continui tradimenti, sia quello di non lasciare a chi ha il monopolio della forza, del potere, anche il monopolio della verità. È una celebre frase di Bobbio. Quando il monopolio della verità, il controllo della conoscenza, dell'informazione, coincide con il controllo della forza, della polizia, dello Stato, diciamo, nel suo aspetto anche repressivo, c'è qualcosa che non funziona. Ci sono tanti totalitarismi, cioè il totalitarismo del mercato, c'è un totalitarismo ideologico di estrema destra, che non pensavamo di rivedere al potere del nostro paese, invece lo vediamo, c'è un totalitarismo morale, diciamo, che esclude, calpesta, la stessa idea di persona umana, credo che alcuni tratti della manifestazione di Verona abbiano a che fare con questo. Il progetto della Costituzione è un progetto diverso e credo che ci sia ancora bisogno di qualcuno che non pensa che il privilegio, la fortuna di aver potuto trascorrere una vita a studiare, debba essere speso e consumato solo per se stessi. D'altro canto, questo riguarda in particolare gli storici dell'arte, la metafora della Torre d'Avorio, che è una nobile e antica metafora che affonda le sue radici nella Bibbia addirittura, non funziona più, se non altro perché la Torre d'Avorio è crollata, cioè il patrimonio culturale è in pezzi, e dunque anche volendoci si chiudere dentro risulta un po' difficile non guardare che cosa c'è fuori. Oltre a essere d'Avorio, cioè un luogo di privilegi, la Torre è alta, è una torre, e dovrebbe servire a vedere le cose prima, e a vederle meglio, non per un accesso privilegiato alla verità o per la scienza infusa, ma per l'attitudine, appunto, al pensiero critico. Ma se però le sentinelle sulla Torre tacciono, a cosa servono? Uno è messo sulla Torre perché possa dare l'allarme. democratici sempre in allarme è un'altra espressione di Bobbio, e mai come oggi credo che si debba essere in allarme. Sì, perché questo tema della responsabilità dell'intellettuale è un tema che è stato al centro di pensieri di grandissimi intellettuali e filosofi lungo tutto, almeno tutto il Novecento. Come delle figure, delle sentinelle, mi sembra la parola perfetta, perché prima di tutto la cultura rende liberi, in una nazione come l'Italia, in cui la cultura e la scuola, che è l'altro grande argomento, vengono non trattati come accade, quest'idea della responsabilità dell'intellettuale ritorna fondamentale come alternativa a un dialogo con il potere, che anche lì, senza usare delle categorie, è anche un po' esagerato il potere. Però il potere è qualcosa che permea, pervasivo, non è sempre solo identificato, ma è anche un sistema consumistico che per esempio ha divorato il sistema dell'arte contemporanea e da cui parte anche la tua riflessione sulla visibilità, sull'anonimato o meno dell'arte. Cominciamo? Cominciamo. Allora, questo che vedete è una copertina, non la vedete ancora, la vedrete, ecco, però la vedete, è la copertina di un disco, è un singolare disco della Fonichetra del 1955, è l'unica forma in cui esce il discorso ai giovani di Piero Calamandrei, che non viene stampato subito come libero, ma si poteva ascoltare in un disco. Se volete ascoltarlo su YouTube è ancora possibile farlo, con la viva voce di Calamandrei, alla fine della sua vita. Democrazia e arte, una copertina come questa ci mette subito dentro il tema che appunto quest'anno la Biennale è visibile e invisibile. La democrazia che non si vede è l'arte che si vede e tante altre possibili declinazioni. La prima risposta che può dare uno storico dell'arte italiano di oggi ha a che fare con la Costituzione, naturalmente, con l'articolo 9. siamo l'unica o paese al mondo che fra i propri principi fondamentali, i primi articoli della Costituzione, ha iscritto con grande chiarezza la cultura, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico. perché lo ha fatto? Beh, c'era una risposta molto chiara. Qua vediamo Calamandrei e altri dei suoi amici che andavano in gita negli anni 30, lontano dalle città nelle quali il sabato c'erano le tristi adunate coatte, le funebri adunate coatte del fascismo. finito quel ventennio, con grande fatica e sangue e dolore, liberatisi dai fascisti e dai nazisti, bisognava vaccinare, non so se si può usare ancora questa metafora, ma io ai vaccini credo, vaccinare la giovane repubblica appena nata e vaccinarla perché non potesse riprendere di nuovo quella malattia, il fascismo. La cultura è intesa come il principale vaccino. Lo sapeva Calamandrei che aveva visto come il fascismo era iniziato a Firenze negli anni 20, nel dicembre del 24, con un grande rogo dei libri del circolo di cultura dei fratelli Rosselli. Il fascismo inizia bruciando libri, assassinando, distribuendo olio di ricino. Quella cultura che si era voluta bruciare diventa il fondamento su cui ricostruire la nazione. Il pensiero critico, la scolarizzazione, il concetto Marchesi dice incostituente, il presidio della nazione è la scuola. Naturalmente un progetto che si è misurato oggi fa vedere quanto rimane da fare. Secondo i dati dell'Istat, il 47,8% degli italiani di oggi è in alfabeta funzionale. Cioè non sa dire cosa c'è scritto in un testo quando lo ha anche letto. Lo può leggere, ma ha difficoltà a dire esattamente cosa dice quel testo. Dunque una strada ancora molto lunga da fare, ma il progetto è quello, non solo. Il progetto è quello di una nazione per via di cultura, non fondata sul sangue, non fondata sulla stirpe, non fondata sulla razza. La parola razza c'è in Costituzione, come sappiamo, è l'articolo 3. Io credo che ci debba rimanere. Quando Rita Levi Montalcini chiesero ma perché c'è la parola razza se le razze non esistono, la risposta fu esemplare. Le razze non esistono, ma i razzisti sì. I razzismi sì, e finché esistono quella parola deve rimanere come un monito. Non ci si può dividere per razza. Dunque una nazione che è consapevole che la propria storia non è una storia, come accade in altri casi, di una unità nel DNA del sangue. Non è citata la religione, non è citata neanche la lingua italiana in Costituzione. Si citano le lingue delle minoranze che vanno tutelate, ma si usa la parola nazione solo nel 9, tra i principi fondamentali, per parlare di paesaggio, patrimonio, cultura. Dunque una nazione aperta a chiunque venga in pace con il desiderio di accogliere la nostra cultura ma anche di modificarla. L'articolo 9 parla di sviluppo della cultura. Non è una cultura immobile, una cultura che può essere modificata. La metafora giusta non è quella delle radici che bloccano una pianta rendendola ferma, ma quella delle acque di un fiume che scorrono sì nella stessa direzione ma sono disposte ad accogliere altre acque e anche a cambiare colore come questa foto ci mostra. Credo che sia questa la cornice in cui nell'ambito della Biennale della Democrazia ci possiamo chiedere qualcosa che di solito non ci chiediamo. a cosa serve l'arte? Qual è la sua funzione? È molto più di moda ce lo dicevamo prima un'altra domanda che cos'è arte? Come si fa a distinguere l'arte dalla non arte specialmente nell'arte contemporanea? Questa è una domanda pericolosa. Roberto Longhi diceva ai suoi allievi come Giuliano Briganti e altri che glielo chiedevano queste sono le domande del grande metafisico cioè il diavolo. Sono domande a cui la storia non può rispondere cos'è arte e che cosa non è arte. Può provare a dire qual è la funzione dell'arte qual è stata qual è oggi quale potrebbe essere a cosa serve l'arte e a cosa servono gli artisti. Innanzitutto io credo che ci dobbiamo dare una risposta naturale preculturale non c'è popolo al mondo che non faccia qualcosa che si può chiamare arte diversissima ma qualcosa che metta insieme a una funzione che può essere sacra che può essere familiare che può essere collettiva un aspetto estetico. Non tutti hanno la storia dell'arte che è un'invenzione greca e che rinasce nell'Italia del Rinascimento c'erano i cinesi la storia dell'arte cioè l'idea di raccontare l'arte in un modo cronologico secondo il prima e il poi sul modello della storia politica altri popoli la storia dell'arte non ce l'hanno l'hanno mai inventata ma l'arte sì non c'è nessun popolo che non abbia arte il che spiega come mai in tanti musei di storia naturale troviamo delle sezioni sull'arte della preistoria l'arte prima della storia le mani che lasciano le tracce in grotte assommando generazioni e generazioni di persone lungo forse anche 20.000 anni parlano di un bisogno naturale recentemente ho scritto un manuale di storia dell'arte insieme a Salvatore Settis l'abbiamo chiamato arte una storia naturale e civile un manuale per le scuole naturale per questa ragione civile perché in Italia attraverso l'arte si diventa cittadini esistono poi dei momenti in cui siamo particolarmente nella necessità sentiamo particolarmente la necessità del linguaggio dell'arte più denso più sintetico più forte spesso più alto di quello delle parole io credo che stiamo vivendo uno di questi momenti in questo paese le ragioni della nostra stessa umanità sono scosse profondamente non è un caso che in questo momento alcune cose che non si riescono a dire con le parole riescono invece ad essere dette dagli artisti vi mostro un artista ve lo mostro di spalle arrampicato su una scala non è un artista di quelli pagati miliardi di euro milioni di euro del sistema dell'arte internazionale non è un artista che vedrete facilmente sui rotocalchi non è nemmeno un artista che si nasconde dietro l'anonimato in questo caso si chiama Giovanni De Gara e ha trovato il modo di dire con un'immagine con un gesto ciò che forse noi non sapremmo dire con le parole rompendo l'assedio della paura alla fine del giugno dell'anno scorso ha reso d'oro tre porte della basilica di San Miniato a Firenze che proprio quell'anno compiva il suo primo millennio una basilica di mille anni l'oro che De Gara ha usato è un oro molto diverso da quello che circonda di luce il grande Cristo sulla stessa facciata il Cristo bizantino è un oro povero è l'oro delle coperte termiche dei migranti quelle che vengono consegnate ai migranti quando li salviamo quando decidiamo di salvarli quando decidiamo di non lasciarli affogare quando non pensiamo che siano dei pirati o dei nemici quell'oro quell'oro che serve non a diventare ricchi ma a accogliere e a proteggere dei corpi umani serve attraverso questa opera d'arte a parlare a un paese indotto invece a respingere e odiare i migranti dagli imprenditori della paura tre porte d'oro tre soglie tre passaggi un gesto anche politico qua vedete l'artista insieme all'abate al giovane abate di San Miniato che è stato contestato duramente ci sono state delle denunce alla procura della repubblica da parte di partiti di destra perché avrebbe rovinato la dignità della basilica con questa infame arte degenerata senza accorgerselo hanno usato questa espressione arte degenerata è stata bella la risposta di Papa Francesco che ha invitato l'abate di San Miniato a predicare la quaresima alla curia romana una risposta come dire di un certo peso tre porte d'oro qua vediamo la basilica come la si vede dai lungarni di Firenze tre porte d'oro tre soglie tre passaggi le frontiere la porta è una frontiera un modo per ricordarci che ognuno di noi deve scegliere dove porre la propria frontiera se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria reclamo il diritto di dividere il mondo indiseredati e oppressi da un lato privilegiati e oppressori dall'altro gli uni sono la mia patria gli altri i miei stranieri che sono parole di Don Lorenzo Milani che a Firenze sono come si vede ancora vive in qualche modo la porta d'oro di Gerusalemme era quella che manifestava la presenza di Dio le porte d'oro di San Miniato hanno invocato la nostra umanità l'hanno interpellato senza sosta perché tornasse a manifestarsi sta scritto nel Vangelo se voi tacerete grideranno le pietre può un artista aiutare le pietre millenarie di San Miniato a gridare? io credo di sì e se ci chiediamo a cosa serve l'arte credo che questa sia una risposta possibile un'arte non singola ma collettiva centinaia di persone all'inaugurazione di quelle porte e poi un artista che parte per tutta l'Italia per un giro d'Italia a realizzare simili allestimenti in moltissime chiese e palazzi pubblici un'arte di tutti per tutti per cui non si paga il biglietto un'arte all'aperto un'arte nello spazio pubblico un'arte laica anche se sta sulle porte delle chiese che sono anche in molti casi dei monumenti e fanno parte del patrimonio storico e artistico della nazione che appartiene anche ai cittadini islamici atei non appartiene solo ai cristiani o ai cattolici la street art dunque veniamo alla nostro tema quello che è annunciato nel titolo anche questa è un'arte pubblica e anche questa è un'arte che non è priva di rapporti con la grande arte del passato un'opera manifesto di Banksy messa a confronto con il persio di Cellini in piazza della signoria a Firenze analogie formali che dimostrano come gli artisti della street art sono tutt'altro che incolti scusate un'arte in cui l'artista esprime un sentimento comune in un luogo pubblico rivolto non a clienti o a consumatori ma a cittadini prima ancora ad esseri umani dunque un'arte senza il culto dell'artista divino questo è un punto molto cruciale e interessante se ci chiediamo chi è Banksy o chi è la Ferrante da un altro punto di vista siamo disposti ad arrampicarci sulle più improbabili congetture pur di riuscire a dare un volto una biografia una foto ai pochi artisti o scrittori che hanno scelto di negare al circo mediatico la propria persona fisica la propria vita privata la propria materialità in qualche modo non accettiamo che ci si nasconda dietro uno pseudonimo e d'altra parte la scelta del verbo nascondersi per rivelare lo spirito vagamente inquisitoriale col quale guardiamo a chi vuole parlare solo con le proprie opere usare nascondersi come se fosse qualcosa di inaccettabile dal punto di vista morale e così molti che non hanno non saprebbero citare un'opera di Banksy o che non hanno mai letto una riga della Ferrante si sono appassionati alla caccia della loro identità anagrafica ora se ci interroghiamo sul perché sulle radici profonde di questo nostro bisogno di dare un volto anch'io vi ho mostrato il volto di Giovanni De Gara questo desiderio affonda le sue radici in un'antica tradizione la storia degli artisti il fatto che la storia dell'arte coincida con quella degli artisti è per l'appunto un'invenzione classica quando nel Rinascimento si leggeva Plinio si leggevano le altre fonti classiche si avevano dei nomi Apelle Zeus Parrasio ma non si avevano delle opere da connettere a quei nomi solo in scultura qualcosa era con molta fatica connettibile ad alcuni grandi nomi dunque una storia di figure di uomini di esseri umani di nomi e alla metà del Quattrocento insieme all'arte anche la storia dell'arte rinasce su questi binari Lorenzo Ghiberti il grande artista il grande scultore scrive le vite degli artisti e scrive la propria autobiografia la prima autobiografia di un artista occidentale si sapeva che sarebbe potuto succedere non è ancora successo ma non è detto che non succeda specialmente se continuiamo a governare così il patrimonio culturale sarebbe potuto succedere che le opere sarebbero sparite e invece i nomi sarebbero rimasti Ghiberti la sua generazione vuole affidare la propria sopravvivenza anche alle parole che sono più durature del bronzo aveva scritto Orazio alla metà del Cinquecento Giorgio Vasari edifica un monumento storiografico che tuttora ci condiziona noi non sappiamo guardare all'arte del Trecento del Quattrocento del Cinquecento senza gli occhi senza il filtro di Giorgio Vasari e delle sue vite dei più eccellenti pittori scultori e architettori una grande costruzione biografica che culmina nell'apoteosi di Michelangelo che viene chiamato divino tendiamo a dimenticarlo ma quando oggi usiamo la parola divo o diva anche nelle manifestazioni più feriali quando diciamo che non so Chiara Ferragni è una diva scendiamo da Michelangelo un po' più giù in realtà parliamo con le parole di Vasari e prima di Ludovico Ariosto che avevano detto che Michelangelo era divino l'idea che gli artisti e poi virtuosi e poi cantanti d'opera giù giù fino ad oggi in qualche modo contribuiscono alla creazione divina ricreano il mondo portano a termine questa è un'idea medievale la creazione del mondo Dürer che si autoritrae come il Cristo non fa nulla di blasfemo ma dice una cosa che si è sempre detto l'artista è un alter Deus è un secondo Dio perché è creatore come Dio quello vero una grande esaltazione della divinità degli artisti e Michelangelo ha una biografia anche se ancora vivo sapete che le vite degli artisti si scrivono solo dopo la morte perché il modello era quello della vita dei santi e fino alla morte ci si poteva dannare in qualche modo per Michelangelo si fa un'eccezione Vasari dice penso che non debba morire mai perché è divino in qualche modo questa eredità dura fino a noi ma questa eredità ha una sua ha un'altra faccia la medaglia ha una seconda faccia Caravaggio padre dell'arte moderna o grande distruttore dell'arte è nel seicento stesso che si dice che Caravaggio è venuto al mondo per distruggere la pittura che cosa si voleva dire che Caravaggio mette in crisi la solidarietà l'unità di un modello in cui la funzione e il valore estetico coincidono l'esempio di quest'opera La morte della vergine un'opera che viene rifiutata dai carmelitani della scala perché non si può tenere sopra un altare per le ragioni le ipotesi si moltiplicano già nei testi contemporanei perché ha ritratto una prostituta perché mostra che Caravaggio ha usato come modella per la vergine il corpo di una donna annegata nel tevere c'è qualcosa di non decoroso i piedi scoperti ma soprattutto c'è l'assoluta assenza di ogni dimensione trascendente di ogni speranza Longhi scriverà è una scena da asilo notturno di fronte a questo quadro viene da urlare non viene da pregare chi potrebbe accendere una candela di fronte a un quadro in cui la vergine Maria è morta come qualunque come tutte le stesse popolane che frequentavano quelle chiese ai suoi tempi come tutte le donne del mondo non si aprono i cieli non scendono gli angeli per la teologia cattolica la vergine è assunta in corpo in paradiso ma il suo corpo noi lo vediamo lì l'opera viene rifiutata ma non viene buttata via Pietro Paolo Rubens il grande artista fiammingo che si trova a Roma convince il duca di Modena di Mantua scusate a comprare l'opera la compra e prima di portarla a Mantua deve tenerlo esposto a Roma per giorni perché gli artisti fanno la fila per vederlo è la prima mostra di Caravaggio un po' più seria della media di quelle di oggi bisogna vedere quell'opera che è sconcertante ed è rivoluzionaria dalla collezione dei duchi di Mantua dei Gonzaga passerà a quella del re d'Inghilterra Carlo I e poi nella collezione del re Sole oggi si trova a Louvre in questa storia quando io le racconto ai miei studenti tutti gli studenti stanno dalla parte di Caravaggio contro i preti cattivi io lo capisco questo viene abbastanza spontaneo ma c'è un ma enorme l'opera quando arriva nella galleria del duca di Mantua ha perso la sua funzione non è più un'opera sacra ha una funzione soltanto estetica si è spaccato qualcosa e la storia che comincia con Caravaggio cioè la storia di una indipendenza dell'artista dalla committenza la storia di un giudizio sull'arte che non si basa sui contenuti ma sulla funzione è una storia che arriva fino a noi fino all'arte contemporanea fino al sistema di cui si parlava prima Edgar Vind che è stato un grande storico dell'arte del novecento diceva il prezzo dell'assoluta libertà dell'arte è la sua superfluità l'arte è diventata una splendida superfluità se domani chiude un museo di arte contemporanea non vedremo le manifestazioni per la strada è un'arte che tende a essere autoreferenziale che parla al suo sistema che parla a chi ci lavora le opere d'arte nascono direttamente per i musei è una cosa impensabile nella nostra storia io faccio un'opera che va direttamente nel museo le opere andavano nei musei dopo secoli dopo che avevano superato un vaglio critico soprattutto dopo che non avevano più la loro funzione Hegel dice quant'è che non pieghiamo le ginocchia di fronte ai quadri con i crocifissi o la Vergine Maria pieghiamo le ginocchia del senso estetico allora l'ascissione fra la funzione la funzione sociale la funzione religiosa la funzione collettiva e invece una dimensione puramente estetica il rinascimento reagiva in qualche modo a una lunga stagione di un'arte senza nomi l'arte prima di Ghiberti naturalmente è un'affermazione da prendere con le molle ci sono ormai ottimi studi sulle firme e i ritratti degli artisti nel Medioevo si è messa in crisi l'immagine romantica dell'artista che annulla la sua personalità nell'opera condotta insieme ad altri a maggior gloria di Dio nelle grandi cattedrali del Medioevo ma nonostante tutto quello che gli storici dell'arte hanno scoperto e puntualizzato è innegabile che cito e mi fa piacere farlo a Torino Enrico Castelnuovo percorrendo a ritroso il Medioevo si direbbe che i tratti individuali degli artisti i loro stessi nomi sfumino e si confondano insieme unificati in una sorta di configurazione collettiva una grande arte collettiva si è sottolineato più volte l'anonimato che cancellia gli artisti dall'epicentro del gotico francese fra il 1130 e il 1250 queste grandi cattedrali le grandi cattedrali dell'Ile de France continuano ad apparirci come capolavori collettivi voluti e costruiti da comunità civili se oggi ci chiediamo la street art a quale modello si può avvicinare io credo che non la possiamo avvicinare al modello del rinascimento e al modello dell'arte moderna post caravaggesca ma invece per certi versi ricorda la tradizione medievale d'altra parte viviamo in un nuovo medioevo nelle nuove città del mondo in America e ormai in Oriente soprattutto torri sempre più alte separano la vita lussuosa dei nuovi signori feudali da quella della massa dei servi non servi della gleba ma servi di un mercato senza regole a redimere la programmatica bruttezza dei non luoghi dove vive la maggior parte degli occidentali è nata allora un'arte che appare collettiva per natura quasi in opposizione simmetrica a quella mainstream che sta in posti come questo posti meravigliosi questo è il Guggenheim di Bilbao all'interno un'arte da museo in cui le personalità degli artisti sono divinizzate e invece un'arte di strada all'interno delle gallerie delle case di lusso dei musei ormai molto simili a delle grandi sale d'aspetto aeroportuali tutti i luoghi in cui si paga si paga per comprare si paga per vedere esiste un'arte pubblica un'arte da esterno che si vede gratis perché aderisce come una seconda pelle ai luoghi dove vive e lavora chi possiede quasi solo la propria pelle non puoi comprare se sei un cittadino comune la grande arte dei musei perché non hai abbastanza soldi la seconda invece non puoi comprarla perché non è in vendita un'arte che entro a certi limite fra mille contraddizioni prova a negare il nesso arte-mercato che è il nesso su cui si costruisce tutta la tradizione moderna Caravaggio si libera della committenza ecclesiastica ma naturalmente dipende dal mercato e chi viene dopo di lui sempre di più dipende dal mercato c'è un nuovo padrone da questo punto di vista il divismo esasperato di Jeff Koons l'artista che forse simboleggia più di ogni altro il sistema dell'arte ufficiale un ex agente di borsa che sposa una porno star ciccioline e che diventa uno dei più pagati e potenti artisti quella è un'opera che è stata esposta in piazza della signoria a Firenze in un luogo sacro fra le opere di Donatello Michelangelo Cellini Giambologna un'opera che costa moltissimo che era già stata venduta a un emiro un'opera seriale su cui Koons non ha nemmeno messo le mani è stata prodotta dalla sua fabbrica dove lavorano 120 persone un grande esperto di marketing soprattutto ma potremmo citare Damien Hirst potremmo citare Maurizio Cattel e tanti altri artisti sono da un certo punto di vista l'estremo opposto all'anonimato di Banksy dei writers come di molti artisti medievali conosciamo soltanto le firme e proprio come accade per l'arte europea dell'alto medioevo non riusciamo a interpretare la loro arte alla luce delle biografie cioè non riusciamo a individualizzarla siamo costretti a leggerla come un'arte davvero collettiva non di rado i writers italiani per esempio mettono in atto progetti di notevole valore civico oltre che artistico vi mostro un'immagine di un'opera del collettivo FX un collettivo di Fabriano che ricopre con il testo dell'articolo 9 della Costituzione i muri di cemento che hanno violato quell'articolo distruggendo il paesaggio si potrebbero citare molti altri esempi ed è stata evocata pertinentemente a proposito di questo mondo una frase di una canzone molto cara a molti di noi The Sound of Silence di Simon e Garfunkel una canzone del 64 che diceva le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana e negli androni dei palazzi per molti versi l'arte di strada sembra un'arte profetica facciamo un po' di esempi questa è un'opera di Banksy forse l'ultima che è uscita è stata postata da Banksy stesso e dunque autenticata su Instagram è un'opera che è apparsa sul muro di un deposito in un soborgo periferico di New York che cosa rappresenta naturalmente come nel caso dell'ispirazione celliniana anche in questo caso c'è un'ispirazione colta c'è un modello iconografico sottostante alla vostra sinistra vedete la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre di Masaccio ne ho scelta una fra le tante possibili lo schema della cacciata è l'angelo di Dio con la spada infuocata che caccia i peccatori i primi peccatori dal paradiso terrestre Banksy ha usato lo stesso linguaggio e ci ha mostrato chi un capitano di industria che al posto della spada fiammeggiante alla freccia ascendente del profitto che ha posato la sua 24 ore in testa ancora il casco che fa capire che si tratta di un imprendi un responsabile dell'attività edilizia e questo è un muro che doveva essere abbattuto per fare spazio a un quartiere gentrificato come dicono gli urbanisti cioè un quartiere popolare che diventa un quartiere esclusivo per ricchi che cosa sta facendo sta cacciando da quel quartiere quelle che un tempo si sarebbero chiamate le classi subalterne le vediamo attraverso i profili delle silhouette nere bambini persone di colore anziani persone deboli che vengono cacciate dal loro quartiere dall'angelo di Dio di oggi il mercato l'unico Dio dei nostri tempi il profitto la spada fiammeggiante Banksy parla della condizione di molti e lo fa sui muri lo fa in un luogo pubblico impedendo che quel luogo venga abbattuto e mettendo in vista le contraddizioni di questo sistema naturalmente come ogni rivoluzione anche la rivoluzione dell'arte di strada ha i suoi nemici quello che vedete era un magnifico murale bolognese di blu uno degli artisti di strada più celebri non solo in Italia era stato realizzato nel 2013 sulla parete di un centro sociale occupato che l'amministrazione comunale voleva abbattere per costruire una rotatoria stradale all'inaugurazione che fu molto partecipata Wuming 4 uno dei membri di un notissimo collettivo di scrittori che hanno deciso di non mettere i loro nomi al centro del discorso e forse anche questo centra con il nostro discorso fu lui a proporre un ekphrasis una parola colta che deriva dal greco che vuol dire una restituzione verbale una traduzione in parole di questa scena così complicata provo a leggervene un passaggio c'è una battaglia disperata appena fuori delle mura di una Bologna Mordor l'immaginario tolkeniano sullo sfondo di questa raffigurazione al centro del disegno due figure si contendono l'anello la saga del signore degli anelli il sindaco Sauron e Willy personaggio unico dell'underground bolognese dal corpo completamente tatuato candidato provocatoriamente a sindaco nelle scorse elezioni municipali bolognesi del 2011 Mordor per chi non avesse letto Tolkien o visto il film il signore degli anelli è la terra oscura abitata dagli orchi e governata da Sauron il potente spirito del male creatore dell'anello nel disegno la città di Bologna è una roccaforte con sopra la torre degli asinelli l'occhio di Sauron ad assaltarla ci sono tutti coloro che sono fuori i fuori sede i migranti i fuori di testa dunque i marginali dall'altra parte a difendere la roccaforte l'esercito di Mordor era un rarissimo brano di trasfigurazione figurativa monumentale del conflitto sociale non c'è più perché l'ha cancellato lo stesso Blu insieme a un buon numero di cittadini che sono offerti volontariamente di aiutarlo perché l'ha cancellato perché una fondazione bolognese molto potente guidata da un potentissimo ex rettore dell'università che era legato al vero potere forte della città logge massoniche e poteri davvero forti e nascosti diciamo non per le ragioni dei writers ma per altre ragioni avevano deciso di staccare le opere di Blu e di altri writers dicendo che le volevano salvare generosamente dal rischio che si rovinassero col tempo le intemperie staccarle acquisirle portarle in un museo naturalmente della fondazione ed esporle in una mostra in cui si entrava pagando un biglietto senza chiedere il permesso a nessuno e dicendo sono opere spesso illegali costruite senza autorizzazione allora noi ce le possiamo prendere noi che siamo il potere ce le possiamo prendere Blu ha detto che a quel punto ha deciso che a quel punto sarebbe stato meglio cancellarle perché perché quando l'arte pubblica e gratuita diventa privata e a pagamento perde la sua funzione quella cosa di cui parlavamo prima e se perde la sua funzione allora può anche cessare di esistere è un crudele paradosso ma è un paradosso straordinariamente eloquente una opera fatta per tutti cancellata dal basso mentre chi è in alto prova ad acquisirla altri esempi da Bologna a Napoli questo è un grande murale che è stato fatto in un quartiere povero di Napoli Mater Dei da un artista argentino Francisco Bosoletti non l'ha fatto sua sponte ma l'ha fatto ricevendo una commissione una commissione dal basso cioè i cittadini di Mater Dei si sono tassati e sono cittadini poveri si sono tassati perché volevano pagare un artista che realizzasse su un muro del loro quartiere un'immagine che contribuisse alla redenzione al riscatto all'orgoglio di un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini e il tema che hanno scelto è un tema mitico fondativo di Napoli la sirena partenope una delle figure che appartengono alla leggenda più remota della fondazione della città è una città questa la città di Napoli dove ho insegnato dieci anni all'università che è una città che si agita fra contraddizioni laceranti una città dove si spara per strada ancora una città martoriata eppure anche una città dove molti comitati molti gruppi molte associazioni sperimentano l'importanza dei beni comuni un altro modo di possedere per citare il famoso titolo di un libro di Paolo Grossi signe giurista e già presidente della corte costituzionale non c'è solo il terribile diritto della proprietà privata per citare Beccaria c'è anche un altro modo di possedere i beni comuni lo spazio pubblico altro giorno in una scuola di una borgata di Roma di Roma a Fidene parlavamo con dei ragazzi che hanno salvato parte della loro scuola dalle vandalizzazioni con dei grandi murali sono così belli e li hanno fatti loro che nessuno osa più toccarli e dicevano una cosa bellissima lo spazio pubblico è una delle poche cose che se è più mio non è meno tuo non si divide ma si moltiplica la proprietà di tutti quando la proprietà di ciascuno di noi è esaltata dunque tassarsi non chiedere al comune ma tassarsi per avere un grande murale che rappresenti partenope ebbene qualche mese dopo l'artista Francisco Bosoletti si è accorto che nella sede di Banca Intesa in via Toledo c'erano dei poster che raffiguravano il suo murale perché? perché c'era una mostra fotografica su Napoli la sua opera è stata fotografata e proprio quell'immagine era stata usata per realizzare il grande banner pubblicitario la maggioranza degli artisti colleghi di Bosoletti quelli del sistema dell'arte non solo sarebbero stati contenti ma avrebbero pagato per poter usare per poter dare la loro immagine come immagine clou di una campagna di una grande banca italiana ma Bosoletti invece non fu per nulla contento di questa scoperta a Napoli aveva imparato un altro modo di pensare e si domandò se fosse giusto che un'opera realizzata da un'idea che partiva da un'associazione e appunto realizzata attraverso una sottoscrizione popolare servisse ora a legittimare l'immagine e dunque a promuovere gli affari di un grande gruppo finanziario così come nelle favole questo piccolo artista sconosciuto prese carta e penna e scrissi alla grande banca notando che nessuno gli aveva chiesto nulla e che forse bisognava usare diversamente utilizzare senza neanche dirmelo la partenope come immagine promozionale di una mostra per la quale è anche richiesto un biglietto di ingresso è a mio parere non solo un mancato riguardo nei confronti di chi l'ha dipinta è anche un insulto a quel popolo che partenope incarna la banca come risponde diciamo david foster wallace avrebbe detto innescando la modalità predefinita e scrive così la mostra alle gallerie di palazzo zevaio stigliano come le precedenti rappresenta un evento culturale per la città per promuoverne la storia e il ricco patrimonio artistico il gruppo intesa san paolo attraverso il progetto gallerie d'italia nelle tre sedi museali di milano napoli e vicenza si propone di valorizzare l'arte e la cultura dei territori di riferimento attraverso l'esposizione al pubblico di opere di proprietà e l'organizzazione di ricorrenti iniziative riteniamo dunque di aver dato lustro al murale dell'artista proprio perché è inserito in questo contesto di pregio dunque deve ringraziarci è uno scambio molto eloquente questo scambio di lettere perché dimostra che il problema non è giuridico chi ha il diritto di fare che cosa e non è nemmeno formale il fatto che l'artista non sia stato coinvolto interpellato c'è un problema più profondo c'è un problema antropologico una irriconciliabile lontananza di linguaggi cioè divisione del mondo da una parte si parla la lingua della democrazia della cittadinanza dell'arte pubblica come bene comune non commerciabile e dall'altra si parla secondo il vangelo del marketing e della valorizzazione osseguendo il dogma della proprietà dell'arte di pregio da un lato si crede che ciò che è comune sia di tutti e dunque non possa avere padroni senza snaturarsi dall'altra si pensa che le cose comuni sono di nessuno e che dunque sia normale impadronirselo un altro esempio napoletano la birra Peroni crea una birra Napoli e usa come pubblicità una foto della bottiglia della birra messa sullo sfondo di un grande murale è un murale che si trova a Forcella in un quartiere popolare di Napoli qua lo vedete nel suo contesto e anche in questo caso non viene interpellato l'artista che si chiama Iorit è un caso molto interessante che tra l'altro assomma due problemi il problema dell'arte di tutti e il problema del mercato il problema di un'arte che serve a dare cittadinanza e dunque a elevare i propri desideri magari a superarli e invece della pubblicità che induce a soddisfare i propri desideri possono convivere queste due cose e dall'altra il fatto che si tratta di un'opera che ha un tema sacro è il patrono di Napoli insomma toccare San Gennaro a Napoli è complicato può servire San Gennaro a vendere una birra è giusto che sia così in generale l'arte può servire alla pubblicità beh questo non riguarda soltanto la street art il Davide di Michelangelo usato per vendere il prosciutto crudo del consorzio toscano solo dopo alcune proteste del ministero per i beni culturali si è rinunciato a questa pubblicità c'è molto di peggio una produzione di armi americana un'industria di armi americana che ha usato prendendolo alla rete senza nemmeno togliere lo sfondo del museo dell'accademia il Davide dandogli in mano questo mostruoso aggeggio e dicendo e giocando sul fatto che sono entrambi un'opera d'arte a modo loro anche il suo fucile è un'opera è un'opera d'arte chissà se nell'Italia della io credo illegittima difesa quest'opera diventerà questa pubblicità diventerà più di mode la vedremo anche in Italia ma ancora un notissimo impero farmaceutico che usa la tragedia umana e artistica di Vincent Van Gogh per vendere un farmaco contro la schizofrenia se Van Gogh l'avesse preso non si sarebbe tagliato l'orecchio eccolo da una parte con l'orecchio tagliato e dall'altro avendo assunto il suo farmaco è così che dobbiamo usare l'arte è giusto usarla così io credo che mentre tutti questi ultimi esempi non hanno suscitato delle grandi polemiche pubbliche invece i due casi napoletani hanno visto l'insurrezione di una mezza città italiana perché quell'arte non stava nei musei ma stava nello spazio pubblico era una loro arte era un'arte di tutti e dunque si è innescato un meccanismo di reazione che io credo abbia molto a che fare con la qualità della nostra democrazia vediamo ancora qualche altro esempio beh non abbiamo tempo magari ci torniamo arte di strada questo è un esempio parigino di un writer che si fa chiamare Ludo sappiamo anche come si chiama ma questo è il suo nome d'arte è del 2010 ed è un cartellone che sfrutta l'orizzonte di attesa si direbbe di chi è bombardato di pubblicità ad ogni angolo di strada l'ho scelto perché qui è la street art che si vendica della pubblicità usa gli strumenti della pubblicità contro la pubblicità stessa in fondo sorprende lo spettatore con gli stessi armi di seduzione con cui veniva sorpreso lo spettatore del 600 attraverso i grandi apparati effimeri del barocco che a me sono così cari il risultato è spiazzante perché i caratteri e la grafica di un notissimo marchio italiano di moda che tutti avrete riconosciuto che gioca da sempre sui colori servono a dire che è uscito un nuovo colore non il verde ma grazie a un gioco di parole che è intraducibile dall'inglese il colore dell'avidità cioè la vera regina del mondo l'avidità che promana dei prodotti di un mercato che non si cura delle condizioni di vita dei lavoratori e dell'ambiente l'artista si vuole riferire alla produzione industriale di ananas in barattolo che giudica del tutto insostenibile non saprei dire quanto ha ragione o quanto ha torto ma non è questo che mi interessa c'è qualcosa che Ludo ha imparato dai grandi artisti del barocco il confine dell'opera è infranto e il verde dell'avidità il verde dei dollari cola oltre la cornice ha dipinto anche il pavimento la barriera fra lo spazio dell'opera e lo spazio della strada lo spazio reale è infranto e il gioco della pubblicità è ritorto contro la pubblicità stessa accanto alla pubblicità la politica questa è un'opera che è apparsa a Londra qualche anno fa tutti vi accorgerete che è una riscrittura satirica del cartellone di uno dei film più noti e premiati 6 Oscar nel 2016 La La Land ma al posto degli attori protagonisti del film a ballare nel murale di Bambi questo è il nome dell'artista sono due primi attori della politica mondiale naturalmente Teresa May non so quanto ancora sarà al suo posto e Donald Trump che spero non molto ancora sarà al suo posto Bambi ha spiegato scrivendo una mail all'Huffington Post è molto interessante non ci sono interviste in video non si vogliono fare vedere se devono parlare lo fanno con dei testi cioè da un certo punto di vista in un modo antico e in un modo che anche qua contraddice l'idea di volere in mille ospitate di programmi televisivi il volto di questa artista donna giovane e presumibilmente carina invece no scrive e dice spiega perché l'idea mi è venuta dopo che ho visto tutta Londra tappezzata dalla locandina del film una coppia felice che balla senza nessun interesse per il mondo questo film è stato realizzato in un tempo politicamente oscuro per il mondo senza interesse per il mondo questa locuzione che viene rivoltata dall'aspetto positivo del film all'atroce aspetto negativo di questi politici che hanno in mano i destini dell'umanità e non si curano affatto senza 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 preoccuparsi senza cura senza che a loro importi nulla dolorenzo milani sarebbe stato d'accordo aveva scritto i care mi interessa rivoltando il me ne frego il motto fascista l'arte come impegno come impegno a dire la verità e naturalmente il colpo di genio finale è nella scritta la terra della bugia la terra delle menzogne la politica come luogo della menzogna questo murale a Roma ha resistito poche ore è stato giudicato intollerabile ed è stato cancellato è stato realizzato mentre era in corso la lunghissima messa in scena in cui si diceva che non avrebbero mai fatto il governo insieme e poi quando stava invece per accadere questa immagine è apparsa ed è un'immagine molto forte anche per le divise per il modo in cui si vestono che evoca in maniera esplicita precedenti fascisti e tra l'altro come dire pesantemente provoca sul piano dell'omofobia della nostra destra estrema colpisce molto che il potere politico abbia immediatamente ordinato la cancellazione ci sono solo foto di questo murale che è stato immediatamente cancellato è un murale tv boy che è un collettivo che realizza molte cose molte cose in Italia ora io credo che da questa breve carrellata possiamo provare a tirare le somme mi vio a concludere cosa ci insegna tutto questo io credo che e lo dico da storico dell'arte che si occupa soprattutto dell'arte del passato credo che l'immersione la conoscenza una capacità di sguardo libero verso queste opere d'arte di artisti che mettono in ombra la loro personalità per cercare di sottrarre la loro opera al meccanismo della mercificazione come si fa a evitare che l'arte diventi una merce come le altre per certi versi è inevitabile che sia una merce almeno in certi contesti ma deve essere proprio una merce come tutte le altre e non ci sono dei luoghi dove non è una merce allora sottrarre se stessi il proprio corpo il proprio viso al meccanismo della mercificazione evitare che l'artista divenga una merce non può forse essere un modo per aprirci gli occhi sul fatto che tutta l'arte anche quella del passato anche il patrimonio culturale che tanto amiamo non può essere ridotto una merce questi artisti apparentemente così lontani da Botticelli o da Michelangelo o da Raffaello non hanno qualcosa da insegnarci anche su Michelangelo su Botticelli e su Raffaello io credo che si debba sempre avere la capacità di tenere in tensione il passato e il presente questo è il volto di Mark Bloch che è uno degli autori che sono stati fondamentali nella mia vita credo in quella di tanti altri ha scritto nel 44 un libro che io ho letto a 18 anni che si chiamava L'Apologia della storia il mestiere dello storico Bloch cacciato dalla sua cattedra alla Sorbona professore ebreo che passa alla resistenza e che scrive un libro che non finisce finisce nel sangue perché viene preso dalla Gestapo e viene fucilato e questo libro inizia con queste parole papà dimmi a cosa serve la storia qual è la funzione della storia suo figlio di 12 anni che gli dice tu che hai dedicato la tua vita alla storia e sei sconfitto dalla storia quei nazisti che entrano a Parigi ma a cosa serve la storia e la risposta del libro è una risposta straordinariamente importante la storia il metodo storico il metodo critico della storia è l'unico metodo che abbiamo per distinguere il vero dal falso aveva scritto un libro sulle fake news sulle false notizie in tempo di guerra dopo la sua esperienza al fronte nella grande guerra c'è un brano del libro di Bloch in cui racconta una storia del suo maestro Henri Piren Piren andò a Stoccolma e appena giunti disse che cosa andiamo a visitare come prima cosa sembra che vi sia un municipio nuovissimo modernissimo poi come se volesse prevenire un mio moto di meraviglia Bloch lo accoglieva e si era preparato a portarlo a vedere i musei e le cose vecchie aggiunse se fossi un antiquario non avrei occhi che per le cose vecchie ma sono uno storico ed è per questo che amo la vita ecco l'idea di Bloch che non si possa studiare la storia senza amare la vita vera dice ancora in un altro passo del libro lo studioso che non abbia il gusto di guardare intorno a sé negli uomini nelle cose negli avvenimenti meriterà forse come diceva Piren il nome di prezioso antiquario opererà saggiamente rinunciando al nome di storico cioè è vero che il passato ci aiuta a capire il presente ma è anche vero che senza un forte interesse per il presente non riusciamo a capire il passato senza una forte adesione al nostro tempo non riusciamo a capire il passato allora provo a dire a che cosa serve capire il messaggio sull'arte pubblica e sull'arte umile perché non c'è dubbio che queste opere d'arte sono umili sono feriali sono condannate a sparire sono anonime da tanti punti di vista non solo perché non sappiamo spesso il nome di battesimo e la vita ma sono anonime in tutti i sensi sono anonime come è anonima la vita nelle nostre periferie che cosa ci può insegnare questa è la foto di un casale anonimo come mille altri che si trova ormai nella periferia di Roma un tempo nella campagna romana la torre della cervelletta nei quartieri romani di Colle Aniene e Tor Sapienza in un posto assediato dai palazzoni e c'è un comitato di persone che sta provando a salvarlo e si sente rispondere ma con tutto quello che abbiamo da salvare in Italia con il ben di Dio di opere di artisti famosi dei musei ma dobbiamo proprio occuparci di questa cosa qui allora il commento secondo me più bello alla loro lotta ve lo leggo è stato scritto in realtà molto prima che loro questa lotta la facessero è un'umile cosa non si riferiva evidentemente a questo ma si riferiva addirittura al selciato di una strada è un'umile cosa e non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte d'autore stupende della tradizione italiana eppure io penso che questa cosa da niente così umile sia da difendere con lo stesso accanimento con la stessa buona volontà con lo stesso rigore con cui si difende l'opera d'arte ed un grande autore nessuno si batterebbe con rigore con rabbia per difendere questa cosa e io ho scelto invece proprio di difendere questo voglio difendere qualcosa che non è sanzionato che non è codificato che nessuno difende che opera diciamo così del popolo di un'intera storia dell'intera storia del popolo di una città di un'infinità di uomini senza nome che però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi e più assoluti nelle opere d'arte e d'autore con chiunque tu parli è immediatamente d'accordo con te nel dover difendere un monumento una chiesa la facciata ad una chiesa il campanile un ponte un rudere il cui valore storico è assodato ma nessuno si rende conto che quello che va difeso è proprio questo passato anonimo questo passato senza nome questo passato popolare sono parole sono parole di Pierpaolo Pasolini sono parole del 1973 l'anno successivo Pasolini scriverà uno dei suoi testi più famosi con il passaggio forse più impressionante per doti profetiche della sua scrittura io credo lo credo profondamente che il vero fascismo sia quello che i sociologhi hanno troppo bonariamente chiamato la società dei consumi opposta alla società dei consumi un'arte che non ha clienti che non ha consumatori ma che ha cittadini che ha umani e che per tornare umana può rivendicare il proprio anonimato che sia l'anonimato di un casale senza architetti famosi o che sia l'anonimato di un'opera d'arte feriale umile e come dire che sembra quasi fatta per sparire io credo che in questo modo noi se permettiamo a quest'arte spontanea che sorge intorno a noi di aprirci il cuore di aprirci la mente potremmo capire alcune delle cose più profonde della nostra tradizione culturale questa foto mostra ancora Piero Calamandrei i suoi amici in una di queste gite fatte per sfuggire alle funebri adunate coatte del fascismo siamo il 18 aprile del 1937 e siamo fra le rovine della città romana di Cosa sul promontorio di Anzedonia di fronte al monte Argentario nel lembo più meridionale della Toscana ai confini con il Lazio Calamandrei va lì questa foto la scatta Nello Rosselli con lui ci sono Luigi Russo ci sono moltissime altre persone moltissimi altri intellettuali a queste gite partecipava Leone Ginzburg Benedetto Croce e moltissimi altri antifascisti che cercavano il vero volto della patria così dicevano nel paesaggio e nelle opere d'arte umili nelle pieve di campagna nei muretti a secco in qualcosa che potesse riscattare con la propria purezza la corruzione dell'Italia fascista scrive nel suo diario Calamandrei tutte le fantasticherie che si possono sognare da una finestra che dà sul mare furono sognate quassù più di duemila anni fa da uomini ai quali noi somigliamo anche nel volto ma anche le loro illusioni furono riassorbite in questa terra germinativa in cui i resti delle case umane servono soltanto come le spoglie della farfalla o gli scheleti dei greggi a ricominciare in ogni aprile questa festosa apparizione di fiori forse è proprio questa consapevolezza della sorte comune che ci rende oggi così cara e così familiare questa terra il sapere che in questa vegetazione che rinasce da millenni su questo strato sempre più spesso di macerie macerie materiali ma anche macerie morali si sono mescolate effuse le vicende umane che oggi per un istante si incarnano in noi ci fa sentire per questa terra anche per i suoi sassi per i suoi arbusti una struggente tenerezza qui non si riesce più a capire dove finisca la roccia inanimata e dove cominci il segno lasciato dai viventi questo è il miglior commento dell'articolo 9 della Costituzione che ancora non era stato scritto e che proprio Calamandrei contribuirà a scrivere paesaggio e patrimonio dove finisce la natura e dove comincia il lavoro dell'uomo tutte le volte che leggo questo testo penso alla Sagra di San Michele alle porte della Val di Susa dove finisce la montagna o superga dove finisce la montagna la collina dove inizia il lavoro dell'uomo nello scendere e poi dice uno stesso senso di pietà come se si trattasse di parentela abbraccio alle cose e le creature quel senso di parentela che le nostre periferie sembra smarrito per sempre le cose e le creature sembrano nemiche e forse quell'arte umile di strada costruisce un ponte quell'arte anonima riesce a renderci meno anonimi e riesce a ricostruire un ponte e finiva Calamandrei passando accanto a un cespo di bianco spino fiorito su queste macerie non so tenermi dal fargli furtivamente una carezza ebbene con lo stesso coraggio con la stessa fiducia potremmo forse pensare qualcosa di simile mentre attraversiamo le nostre città dominate dal mercato e sfigurate ma anche capaci di generare un'arte nuova dal basso libera profondamente umana possiamo accarezzare quei muri con lo sguardo e mormorare tra noi una parola nuova che mi pare da quanto è misteriosa e fresca inventata ora democrazia grazie 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 immagino come tutti voi mille mille dei ho preso mille appunti poi già era questo flusso così però abbiamo poi tempo per delle domande come vi dicevo all'inizio non tantissimo ma un pochino voglio solo quest'idea della storia che tu hai introdotto verso la parte finale in realtà è un'altra delle grandi scomparse e delle grandi figure luoghi dimensioni rispetto alla quale finalmente qualche intellettuale e i cittadini si stanno risvegliando in sua difesa e delle ultime settimane di cronaca questa scomparsa delle cattedre di storia contemporanea e moderna così come della scomparsa della traccia della storia nei temi degli esami dei nostri ragazzi della scuola e la scomparsa della storia ha un valore anche da parte di un certo di potere di cancellare uno strumento critico di riferimento la memoria senza la memoria tutto si ripete tutto può essere rifatto e allora pensavo tutta questa antropologicamente la dinamica dei graffiti nasce proprio per lasciare un segno di sé una presenza un segno di esistenza anche nei ghetti americani dove nasce tra il fine degli anni 60 e poi gli 80 l'arte dei graffiti questo loro primo segno era la tag la firma però c'era una presenza ma era uno pseudonimo non era mai la firma diretta in fondo è una forma di dar presenza a sé di scrivere una storia personale ma collettiva su un muro di luoghi che sono sempre quelli delle periferie dove la storia viene cancellata dove questi cittadini in realtà sono l'inizio e la fine della catena del consumismo cioè vittime sfruttate da parte di un'altra storia che si scrive e quindi c'è un valore è vero profondamente democratico dal basso di quest'arte sempre più diffusa e la prova valore anche di autoconsapevolezza che pian piano prende forma e una riprova ne è che il sistema cerca di prendersi queste opere raccontavi di Blu e di tutte di queste modalità per cui moltissimi artisti vengono spacciati per street artists dal sistema dell'arte contemporaneo e producono quadri tele gadget fanno interventi magari nelle maison di Louis Vuitton o di altre con un cortocircuito folle che però diventando moda non viene così così percepito sì è così c'è un paradosso io credo dicevi giustamente lasciare la propria traccia su un muro fai vedere le foto dell'arte preistorica queste mani sul muro appunto fatte lungo forse ventimila anni noi non riusciamo neanche a pensare un'opera d'arte collettiva che si snodi su ventimila anni da un certo punto di vista è un tentativo di dare una storia al presente come tu dicevi cioè di dare una dimensione storica il grande paradosso è che viviamo in una dimensione in cui il presente esercita una sua dittatura una dittatura assoluta noi non riusciamo a costruire un futuro diverso dal presente e non riusciamo a conoscere il passato c'è la rimozione della dimensione storica che fa paura fa paura al potere per cui la storia viene cancellata pensiamo all'uso del patrimonio culturale io ho provato a dirlo tante volte mi rendo conto che è una posizione per nulla mainstream ma quando noi mettiamo quando noi diciamo che dobbiamo rendere contemporanei i musei del passato e che quindi per esempio dobbiamo mettere non so gli abiti di moda nei grandi musei a Firenze la mia città sono state fatte mostre di stilisti contemporanei nella galleria Palatine che voleva dire che c'erano abiti grandi selfie degli stilisti incorniciati e attaccati al muro fra i quadri Raffaello di Caravaggio ma questo è successo la galleria Borghese è successo in molti altri luoghi notavo che camminando per via Tornabuoni la via dei negozi eleganti di Firenze si trovavano gli stessi vestiti che poi si trovavano nella sala del museo in uno schiacciamento atroce del patrimonio del passato sul presente Leon Battista Alberti diceva che la pittura è una finestra sul mondo noi tendiamo a rendere il patrimonio culturale uno specchio che invece rimanda ossessivamente la nostra immagine altra cosa è che questa nostra forte adesione al presente di cui parlava Bloch ci permetta di capire il passato ma non di violentarlo non di annullarlo non di omologarlo Gramsci diceva che l'idolo la credenza più difficile da abbattere è che tutto ciò che esiste così sia naturale che esista così non è naturale l'ordine delle cose non è naturale potremmo cambiarlo ma dove troviamo il desiderio di cambiarlo dove attingiamo il desiderio di cambiarlo se non nella conoscenza di un passato diverso e dunque nell'idea che il futuro possa essere diverso Ernest Gombrich che era un grande storico dell'arte che ha scritto forse il più bel manuale di storia dell'arte The Story of Art l'ha fatto quel manuale parlando di storia dell'arte alla radio alla BBC durante i bombardamenti di Londra e diceva c'era ha raccontato c'era un grande bisogno di conoscere il passato per poter immaginare che ci fosse un futuro in un momento in cui sembrava che il futuro non ci sarebbe mai stato allora è paradossale perché c'è una dittatura del presente ma le nostre periferie le nostre città sono senza tempo e in qualche modo sono impermeabili alle ragioni del presente delle persone presenti che sentono di passare senza lasciare traccia di essere irrilevanti di non avere storia e dunque di non avere futuro di non essere ricordate chi ci ricorderà in quale allora c'è una sorta di ribellione a questa riduzione al presente e c'è non so quanto conscia quanto consapevole una proiezione del futuro l'idea di avere un prima e un dopo una dimensione storica che d'altra parte va strettamente connessa a quell'idea di Bloch della storia come il metodo per davvero conoscere e per non essere passivi e per non annegare in un mare di menzogne mi sembra che l'idea che l'arte sia una cosa leggera e che ha a che fare con il divertimento con lo svago con l'intrattenimento va molto di moda ora c'è una parola inglese che non riesco mai a pronunciare che unisce educazione e intrattenimento che è diciamo la giustificazione delle grandi mostre la giustificazione di questi grandi baracconi costosi che sono le esperienze immersive in cui io pago un biglietto per entrare dentro un grande luogo un caleidoscopio campi di Van Gogh esatto campi di Van Gogh corvi spiga di grano come se piovesse e avrei dovuto poi conoscere qualcosa di Van Gogh non è così naturalmente questo grande sistema in realtà come dire lascia i margini questo il paradosso è che questo grande sistema del mercato sembra che mai come oggi si sia venduta tanta arte ma poi alla fine questa arte riesce o no a ritirare fuori da noi l'umanità Cesare Brandi quando gli questo grande storico dell'arte quando gli dicevano un amico faceva una domanda che ha un senso che non dovremmo smettere di farci ma a cosa serve tirare fuori le rovine antiche abbiamo tanta archeologia ma che diavolo serve di sotterrare ancora sta roba e Brandi rispondeva speriamo che tutte queste cose riescano a dissotterrare l'uomo che è in noi ecco allora il patrimonio culturale il nostro modo di usare l'arte riesce a dissotterrare l'uomo che è in noi o no io credo che quando Banksy questo è ancora Banksy parla dei migranti e del nostro rapporto con i migranti in un modo così e lo vediamo su un muro di una strada qualcosa nella nostra umanità si muove sicuramente sempre rispetto a quest'idea di ribellione e di partenza dallo spazio pubblico da un'idea di arte pubblica che non sia come sempre gestita dall'alto verso il basso per creare dei monumenti a se stessi un altro aspetto interessante è che c'è tantissima attività negli ultimi anni da un punto di vista proprio numerico di collettivi di artisti che hanno dei nomi quindi non è che neghino la loro identità se uno va a cercare chi siano le figure che attivino questi collettivi ma l'importante è che loro esistano come lavoro collettivo e il lavoro collettivo di questi collettivi si va sempre a relazionare con lo spazio pubblico di quartieri di periferia di zone che hanno bisogno di una riqualifica da un punto di vista urbano e quindi di paesaggio perché lo sguardo e il paesaggio in cui si vive è fondamentale ma proprio umano cioè di ritrovare dei motivi dei momenti di incontro e l'arte in questo ritrova proprio uno specchio totale con la sua idea e la sua funzione di comunità e di arte vissuta quindi la pratica lo stare insieme il momento il laboratorio chiamiamolo che sembra un'arte anche molto politica molto ideologica ma in realtà ha ricreato un suo senso preciso perché tutti questi cittadini che partecipano a questi progetti di questi collettivi condividono poi una condizione di relazione tra di loro di riqualifica del proprio ambiente agendo loro stessi e quindi si riappropriano di un luogo che è loro e si riappropriano quindi non solo di un presente che appartiene loro e la pelle dei luoghi dove anche vanno ad agire questi chiamiamoli street artists ma che sono dei veri e propri militanti in realtà ma anche di un tempo presente che come dicevi tu ha un passato e avrà e potrà avere un futuro è la costruzione di quello che si chiamava in un momento forse più politicamente felice del nostro il diritto alla città costruire il diritto alla città e costruirlo dal basso e costruirlo ridefinendo lo spazio pubblico quello spazio in cui appunto non sei cliente non sei consumatore è molto difficile per noi difendere questo aspetto che male c'è se uno sponsor se un grande sponsor ridefinisce uno spazio pubblico e poi lo marca con i suoi loghi con i suoi marchi con il suo brand ma in fondo lo si è sempre fatto le grandi famiglie aristocratiche mettevano i loro stemmi c'è sempre stata una contesa sullo spazio pubblico oggi la contesa è portata avanti proprio dal mercato io credo che invece uno spazio pubblico veramente pubblico sia fondamentale e lo sia per le ragioni che stanno a cuore alla biennale della democrazia non a quelle dell'arte Christopher Lash un grande sociologo storico ha scritto che quando il mercato esercita la sua prelazione su tutti gli spazi pubblici il rischio è perdere la capacità di autogovernarsi cioè quando una comunità non riesce più ad essere tale pensiamo alle città che si frantumano socialmente la omogenizzazione dei nostri quartieri i ricchi con i ricchi i poveri con i poveri il centro di Napoli è un centro che storicamente ha sempre avuto una compresenza di classi diverse negli stessi palazzi aristocratici c'erano i grandi signori e i popolani oggi c'è una gentrificazione selvaggia i palazzi dei decumani proprio in questa zona qui di Napoli vengono comprati da grandi real estate russe o tedesche vengono sfrattati tutti gli abitanti diventano attività ricettiva il sindaco di Napoli è contentissimo di questa cosa io ho qualche dubbio sul fatto che sia la strada giusta per rivitalizzare una città per ridare una città la sua dimensione politica la polis è la città ma la città è ancora politica o no? il punto è tutto quello che ci fa riappropriare dello spazio pubblico e ci fa entrare in questo spazio pubblico non da sudditi del mercato del denaro ma da cittadini sovrani non sovranisti sovrani è qualcosa che secondo me ci serve come il pane per la dimensione politica sarebbe un lungo discorso ma pensiamo e questa è una cosa molto impopolare pensiamo alle leggi per l'elezione diretta del sindaco noi pensiamo che quella sia stato un passaggio democratico eleggiamo direttamente il sindaco poi ci lamentiamo moltissimo della disintermediazione che c'è in tutti gli altri campi della politica il fatto che non ci sia più la capacità di concertare che non ci sia più una capacità di una comunità di una società di costruire insieme il proprio futuro ma chiediamoci cosa contano oggi i consigli comunali potremmo abolirli di fatto l'opposizione cosa conta cosa conta la dinamica parlamentare sono degli esempi di presidenzialismo urbano o regionale allora le città che perdono la loro dimensione democratica demandandola quella nazionale che poi va come va qual è davvero lo spazio di democrazia quanto contano i cittadini eleggere una persona dargli un mandato pieno questa visione plebiscitaria il capo è la folla l'investitura è questo oppure molto più faticoso molto più lento molto più pieno di compromessi e compromesso non è una brutta parola non sarebbe la costruzione di una responsabilità diffusa le esperienze che portano a decorare le città in questo modo hanno spesso delle esperienze di autogoverno dal basso che non riguardano solo i muri e i murales ma i parchi ma i servizi sono esperienze di mutualismo dal basso di autoorganizzazione la città che ricomincia come nel deserto come a un anno zero a riprendere in mano il proprio destino credo che siano fra le cose più interessanti che dobbiamo studiare per capire come uscire dalla famosa crisi della nostra democrazia anche perché se le forme di potere si rendono conto di questa nuova consapevolezza non possono fare che occuparsene e rendersi conto che sono dei bacini di voto da un lato e di necessario interlocutore per cui riesistono da un certo punto di vista e rientrano le politiche nei loro sguardi di attenzione e soprattutto è la pedagogia civile cioè i ragazzi che crescono in queste realtà diventeranno cittadini diversi dalle nostre generazioni probabilmente cioè io credo il bisogno di crescere fin da bambini in uno spazio in uno spazio pubblico in uno spazio di tutti in uno spazio mio che appartiene a me ma in cui si intende non come l'appartenenza a un padrone ma come l'appartenenza a un custode questo è un po' il punto la visione di uno spazio pubblico di cui ti occupi domande non so bene come organizzare perché non vedo con le luci scusate c'è un braccio alzato in fondo portate voi un microfono o come funziona buonasera volevo chiederle dopo l'avvenimento durante l'asta di ottobre in cui è stata venduta un'opera di Bansky che si è poi autodistrutta ho trovato molto interessante quello che è successo sia da parte della casa d'aste sia da parte dell'acquirente in quanto entrambe hanno deciso di non modificare il prezzo dell'opera che sarebbe potuto salire dal punto di vista del venditore e al tempo stesso scendere dal punto di vista del compratore volevo quindi chiederle secondo lei per davvero il valore dell'opera il valore artistico e il valore di mercato non sono conciliabili? allora naturalmente non è possibile rompere questa catena nel momento in cui gli artisti devono vivere Bansky non vende le opere sui muri ma vive in un altro modo della sua arte ed è un rapporto diciamo paradossale giocato sul filo del rasoio stare dentro il sistema per contestare il sistema con tutti i rischi che questo comporta io credo che l'arte non sia una merce come le altre cioè per esempio credo che questo sia non si possa accettare questo ancora di meno ma anche questo non si può accettare credo che la street art induce e nel caso di Bansky questo è particolarmente palese come dire non ha risposte però induce a porsi delle domande induce a complicarci la vita induce a mettere il dito nelle contraddizioni senza avere una soluzione qui non si tratta di non c'è un messianismo non c'è un altro modello alle porte però c'è la capacità di mettere in crisi quelli che sono i dogmi cioè la società dell'arte contemporanea come per molti versi il sistema economico assomiglia molto a una religione in cui ci sono le verità rivelate i sacerdoti indiscutibili ci sono le fatue le scomuniche ci sono i roghi ecco c'è c'è un vitale bisogno di eresia di eretici io credo che naturalmente nessun eretico è compiutamente eretico se non altro perché si definisce il rapporto al sistema dell'ortodossia e c'è un dualismo e c'è una tensione fra queste cose non si tratta di fare di Bansky un cavaliere senza macchia e senza paura è contestato all'interno dello suo stesso mondo però ci sono degli elementi straordinariamente come dire capaci di fare pensare penso per esempio un esempio fra i tanti a Bansky che fa i suoi murali soprattutto uno importante sul muro che divide Bethlehem il muro costruito allo Stato di Israele c'è un film molto bello italiano che è uscito su questa storia sul furto del Bansky l'abbiamo presentato a Ravenna in una follata discussione in un dipartimento di storia dell'arte ecco uno dei modi più intelligenti di parlare della questione palestinese oggi secondo me negli ultimi tempi è ruotata proprio intorno a questa scelta di Bansky la costruzione dell'albergo di Bansky in quel luogo io credo che anche lì figuriamoci se c'è una soluzione offerta da Bansky a quella vicenda terribile e così cruciale ma c'è però io direi la capacità di darci degli occhi nuovi di darci la capacità di vedere le cose in un modo diverso anche qua appunto forse più delle risposte sono importanti le domande terza fila grazie buonasera mi incuriosisce il caso di Napoli come funziona che un comitato di cittadini individua già l'artista che dovrà fare l'opera oppure viene fatto un bando e l'artista cosa fa una serie di bozzetti che vengono presentati al comitato di cittadini allora in questo caso è un comitato che si chiama Mater Dei Resiste è un comitato che ha fatto molte cose importanti per esempio il riscatto di un parco pubblico abbandonato che era stato rimesso a disposizione e all'interno di questo quadro di mutualismo hanno deciso che d'accordo con i proprietari di quella casa quel muro potesse ospitare qualcosa del genere dopodiché si sono affidati semplicemente alle loro conoscenze e come è facile oggi sono andati sulla rete e hanno conosciuto l'opera di Bosoletti e l'hanno ingaggiato in qualche modo ma in maniera del tutto informale non ci sono procedure non ci sono gare è un comitato dal basso dei cittadini e naturalmente nessuno se ne è accorto nessuno ha avuto nulla a ridire da un punto di vista del piano del paesaggio della definizione della tutela della città diciamo già figuriamoci qua è veramente dimenticato da tutti naturalmente anche qua come in tutti gli esperimenti che hanno a che fare con i beni comuni con le occupazioni ci sono come dire pericoli ci sono possibili esiti controversi pensiamo all'idea di un'esplosione massiccia di queste cose chi potrebbe erogarsi il diritto di riempire intere strade con cose però il problema è che un conto sono i problemi diciamo teorici e formali che vengono fuori altro conto è vedere in pratica nel singolo caso qual è l'esito di questa questione e direi che la risposta più convincente è stato il fatto che il comitato è riuscito a raccogliere soldi in tutto il quartiere anche dalle persone più semplici e più povere che hanno capito come questa cosa le riguardasse naturalmente il punto era non era la fama dell'artista ma l'idea che un artista avesse in qualche modo prendesse in considerazione l'idea di lavorare per loro sembrava quasi una contraddizione come parla proprio da noi e questa cosa con la sua bellezza e con il suo nesso forte con il mito fondativo di Napoli la tomba della sirena partenope si è scelto un tema identitario anche se è declinato in un modo ha riportato a galla alcuni tratti di identità culturale comune naturalmente naturalmente è difficile esportare questo modello altrove in scala 1 a 1 direi che sono tutte cose che devono trovare la propria realizzazione artigianale pratica nella realtà nelle realtà diverse in ogni città italiana ci sono esempi che assomigliano a questo a Roma io ne conosco alcune al Corviale di committenze dal basso a me la cosa interessava soprattutto per la formalizzazione cioè non un artista del quartiere ma la ricerca di un artista a cui affidare una commissione in qualche modo ricreando il rapporto committente-artista committente-collettivo e artista un censimento di queste cose sarebbe essere interessante cittadini come nuovi committenti c'è anche un progetto europeo storico su questo tema purtroppo il nostro tempo è finito ringraziamo Tommaso Montanari ringraziamo tutti voi grazie a voi grazie e grazie a Olga